Sono Jacopo e frequento il liceo classico a Santa Ursula. Io sono Chiara e frequento anche io il liceo classico a Santa Ursula. Abbiamo aderito appunto questo progetto di alternanza scuola-lavoro chiamato Lab2Go insieme appunto all'Università Sapienza di Roma. Abbiamo catalogato gli oggetti di laboratorio già appunto presenti nella nostra scuola di cui personalmente non conoscevamo neanche l'esistenza e in una seconda fase andremo a compiere un progetto che poi presenteremo in una lezione conclusiva alla Sapienza. Il progetto è molto interessante in quanto noi non conoscevamo neanche l'esistenza di queste strumentazioni e poi dopo averle riscoperte e catalogate ci siamo accorti che molte non sono in ottime condizioni e il progetto ci permetterà anche di restaurarle e riportarle a uno stato originale. Credo che questo progetto sia molto interessante poiché noi frequentiamo un liceo classico e quindi si pensa tendenzialmente che in un liceo classico le materie scientifiche passino in secondo piano. Invece noi siamo la dimostrazione un po' che le materie scientifiche sono prese molto in considerazione, tanto è vero che noi frequentando appunto un liceo in diritto umanistico frequentiamo anche un progetto di alternanza scolare basato sulla fisica. Il fatto che noi scegliamo degli studi classici non esclude che noi possiamo intraprendere degli studi scientifici, infatti io sono molto propenso a questo, non penso di scegliere materie umanistiche ma questa alternanza sicuramente mi aiuterà a capirne di più qualcosa che vorrò seguire in seguito.